Indefessi cavalcatori di vermi, chi vi parla è una persona poco inde e molto fessa e, a dirla tutta, poco cavalcatore e molto verme. Vabbè, a parte queste battute di autoreonia così gratuite, finalmente torno a fare un video dopo un pochettino di tempo, ma che vi devo dire, la vita è quello che è, e parliamo di alcune notizie succulente. Allora, tanto per iniziare, devo chiedere scusa ad Asmodè, non lo farò però dovrei, perché dopo aver espresso tutti i miei dubbi e tutto il mio pessimismo riguardo l'eventuale posticipazione della data di uscita di Dune Insurrezione, ovvero la traduzione di Dune Uprising, loro, che cosa hanno fatto in tutta risposta? Probabilmente perché hanno visto il mio video, hanno addirittura anticipato la data di uscita, quindi non uscirà il 31 agosto, ma uscirà il 22 di agosto. È chiaro che finché non ce l'abbiamo in mano non possiamo parlare, però, però, se Asmodè anticipa, allora vuol dire che evidentemente o ce l'hanno in magazzino o comunque gli sta per arrivare, insomma, sono sicuri del fatto loro, quindi sanno che lo potranno far uscire in quella data, altrimenti non avrebbero anticipato, molto semplicemente. Quindi, signori, manca poco, chi di voi non lo ha comprato neanche in inglese, ecco, preparatevi, tenetevi 60€ da parte perché, qualunque sia la vostra vita e i vostri problemi, quei 60€ devono essere spesi per comprare Dune Insurrezione. Quindi, però, prima di arrivare, prima di, insomma, di parlare di quello, che magari, insomma, ne parleremo in dei video successivi, facciamo un passo indietro, parliamo di Dune, il vecchio Dune Imperium, ok? Come tutti saprete, a marzo è uscita ufficialmente la versione digitale di Dune Imperium, l'app ufficiale del gioco base. Anche qui devo porre le mie scuse, non ad Asmodee, ma alla Direwolf, perché quando è uscita io ho accolto in maniera tiepida il fatto che fosse uscita questa versione in digitale, perché il vecchio Dune, io non ci giocavo da tre anni, non lo so, adesso non mi ricordo, sì, sì, perché praticamente l'ho comprato nel 2021 quando è uscito in italiano e un anno dopo ho preso l'espansione, l'ascesa di X in inglese all'epoca, quindi io ci ho giocato un anno ed erano effettivamente due anni tondi tondi che non giocavo al vecchio Dune Imperium al solo gioco base. Quindi la mia idea iniziale era di acquistarlo nel momento in cui fossero arrivate poi le espansioni, perché io la maggior parte delle mie partite le ho fatte alla versione Dune, ascesa di X e Immortalità. Quindi il fatto di tornare indietro al vecchio Dune al solo gioco base, sinceramente mi sembrava un pochettino... credevo che sarebbe stato noioso, perché il primo Dune è comunque un po' piatto se vogliamo rispetto alla stessa versione con le espansioni. Devo chiedere scusa a Direwolf perché ho deciso di comprare il gioco in ogni caso per provarlo così come spasso e devo dire che lo spasso è stato molto, molto, molto elevato perché andiamo a vedere insieme, facciamo una panoramica di com'è questo Dune Digital per chi non lo avesse, così eventualmente anche voi potete capire se mai vi possa interessare o meno. Però quello che io cerco di dirvi all'interno di questo video è perché mi è piaciuto così tanto nonostante sia la versione del gioco che io apprezzo di meno, ok? Anche perché adesso gioco solo ad uprising, quindi figuriamoci, ci sono proprio con la testa da un'altra parte. Abbiamo intanto una modalità in solitario, varie modalità in solitario, che ci permettono effettivamente di avere questa grande tranquillità di non dover stare a giocare con delle persone online che deve aspettare che facciano il turno. Sei rilassato, giochi con i tempi tuoi, ti prendi il tempo che vuoi. Questa per me è una cosa molto importante, devo dire la verità, perché online ho giocato tante partite su Table Top Simulator, però un po' mi stressa il fatto che devi stare ad aspettare gli altri, devi interfacciarti con gli altri, cioè molte volte uno vuole rilassarsi e semplicemente non avere a che fare con altre persone. Ve lo dice tra l'altro uno che di professione fa lo psicologo, quindi capite bene che effettivamente anche io ogni tanto non voglio avere a che fare con la gente, ok? E questo Dune Digital me ne dà l'occasione. Abbiamo nella modalità in sol, abbiamo intanto le partite contro l'automa, possiamo scegliere se giocare contro due o tre automi, quindi fare la partita a tre o quattro giocatori, e il tipo di IA possiamo scegliere se è quella normale, cioè ovvero degli avversari che si comportano tendenzialmente come delle persone umane, oppure modalità Hagal, per chi ha il gioco in versione fisica sa che cos'è, quindi abbiamo questo mazzo di carte, giri la carta e l'automa farà quella mossa lì che viene determinata dalla carta. In questa versione si può giocare solo in tre giocatori, quindi con due automi, modalità Hagal con i vari livelli di difficoltà. È tosta, è contro Hagal, è tosta. Contro invece l'IA normale, io gioco a modalità difficile e vinco, sempre. È difficile e sfidante, però alla fine dei conti la partita a casa la dovresti riuscire a portare. Non vuol dire che sia noioso, proprio per niente, anzi è comunque divertente e poi ritengo che l'obiettivo principale per cui uno si interfaccia con Donny Digital non deve essere tanto il fatto che sto lì a sfidare degli avversari che mi danno freddo da torcere, che mi danno pensieri. Deve essere il fatto che ti rilassi, ti spassi, provi i vari leader, impari ad usare i vari leader, provi delle strategie particolari, provi qualcosa di pazzerello, fai magari delle scelte di deck building particolari per vedere se pagano, provi delle carte per vedere se quelle carte funzionano, come sono. È una sperimentazione continua, ok? E il divertimento poi è una conseguenza e arriva. Ribadisco, l'IA non è noiosa, è facilissima, è comunque impegnativa, anche a livello difficile, quindi ti dà da pensare. Ma questa è la modalità che io uso di meno perché ci sono delle cose più interessanti. E infatti abbiamo poi le sfide. Grande introduzione. Le sfide sono molto interessanti, come vedete io le ho superate tutte, e me ne manca solo una, che secondo me è complicatissima. Dov'è? È qua in mezzo, eccola qua. Questa è l'unica che mi manca. Praticamente questa sfida qua, vi faccio vedere quella che secondo me è la più tosta. Non potete vincere a meno che non abbiate inviato un agente su ogni spazio del tabellone. Ancora non l'ho provata neanche una volta, però secondo me sarà tosta, tosta, tosta. Le sfide comunque che cosa sono? Sono delle partite che tu giochi contro due automi nella modalità normale. Quando superi la sfida in modalità normale, poi sblocchi la modalità eroica e li giochi contro tre automi. Nella normale giochi contro due automi a livello medio, se non sbaglio. E poi alla modalità eroica giochi contro tre automi a livello difficile. E devo dire che l'IA nelle sfide sembra ancora più difficile del solito, il che è positivo. Sono più bastardelli, quindi bene così siamo contenti. In realtà la vera difficoltà poi la danno le sfide. Alcune sfide sono tendenzialmente facili, sono fatte per farci divertire, tipo questa. Possedete agenti illimitati, ma dovete pagare un solari per ogni agente inviato oltre il primo ogni round. Cioè il primo agente ogni round è gratis, dal secondo in poi devi pagare un solari. È una sfida simpatica, cioè è una roba che ti metti l'agio, chi se è tanta gente durante ogni round ti diverti. Tendenzialmente la partita la vinci facilmente. Poi già abbiamo questa qua. A livello normale le alleanze con le fazioni valgono un punto vittoria aggiuntivo, quindi già vedi cosa comporta. Che la direzione che intraprenderai durante la partita è influenzata dalle regole specifiche della sfida. Questa è una cosa molto carina, perché tu sei costretto ad essere flessibile, a decostruire, a destrutturare quella rigidità che uno potrebbe avere, magari non ce l'ha, perché magari alcune persone potrebbero essere già di suo molto flessibili, però ciò che capita tendenzialmente quando giochi ad un gioco è che più partite fai e più tendi a inquadrarti, e più tendi a costruire un'identità di gioco. In questo caso le sfide ti costringono a destrutturarti, perché ti devi focalizzare su determinati aspetti o hai comunque delle condizioni che modificano quelli che sono appunto i parametri normali di una partita. Quindi sono carine. Ora non le vado a leggere tutte, però vi posso dire che sono sfidanti, sono simpatiche, e poi anche una volta che le hai superate magari ti può divertire poter fare di nuovo una partita, tipo questa qua degli agenti illimitati, è simpatica, cioè può essere bello che me la vado a rifare così per divertimento, perché poi voglio veramente mettere il focus sul fatto che alla fine deve essere un divertimento. Abbiamo la schermaglia, che è una bellissima trovata, che hanno avuto una bellissima trovata. Praticamente la schermaglia che cos'è? È una partita con delle regole speciali. Questa partita la si può giocare per un arco temporale di tre giorni. Terminati questi tre giorni, parte una nuova sfida con delle nuove regole. Quindi già il primo punto a favore è che questa particolare sfida, essendo disponibile solo per tre giorni, tu non è che ti stufi nel tempo. Cioè quei tre giorni giochi e poi cambiano le regole e hai una nuova sfida. E già solo per questo è figo. Poi che cosa succede? Che ogni sfida ha delle regole specifiche e, ad esempio, andiamo a vedere quella attuale, modifichi alle regole, ogni giocatore inizia con una carta in trigo casuale. Bene. E poi ci sono dei modificatori di punteggio. Che cosa sono? Praticamente io mi faccio la mia partita. Se arrivo primo, se vinco la partita, faccio 20 punti. 20 punti non nella partita, 20 punti nel punteggio della schermaglia. Se arrivo secondo ne faccio 10, se arrivo terzo ne faccio 5. Poi ci sono dei modificatori di punteggio, ovvero oltre a questi punti che faccio, ne accumulerò altri in base alle regole specifiche della schermaglia. In questo caso, per quella che c'è in questo momento, dice che a fine partita farò un punto in più, ribadisco, non un punto nella partita terminata la partita, faccio un punto in più nel punteggio schermaglia per ogni 3 solari che mi rimangono fondamentalmente. E poi farò un punto in più per ogni volta che avrò rimescolato il mazzo. Ok? Questo è quanto. Che cosa succede? Che avrò totalizzato un punteggio, io prendo, vado a vedere poi la classifica, quindi c'è anche una classifica globale con tutti i giocatori dello mondo, e tu effettivamente puoi ordinare, questi sono per dire ordina per punteggio partita, quindi in questa particolare schermaglia, questa è la classifica punteggio partita, la classifica dei giocatori più bravi, e chissà, ci potrebbe anche essere il nome nostro intorno, insomma, in mezzo a questi giocatori, poi anche perché la classifica, dai, bene o male, è anche lunga, però devi essere tra i più bravi. Poi puoi anche fare ordina per punteggio stagione, perché ogni stagione si compone di un tot di schermaglie, che non so quanto sono, anche perché il gioco l'ho scaricato da poco, quindi sulla lunga non vi so dire. E quindi c'è anche il punteggio accumulato durante la stagione, perciò tu sei in classifica per, sia per il punteggio della schermaglia in corso, sia per il punteggio della stagione. La schermaglia la si gioca con tre automi a livello difficile, si possono fare tre tentativi, o meglio, tu questa schermaglia la puoi giocare quante volte vuoi, solo che il punteggio ti viene conteggiato solo per le prime tre partite. Di queste tre partite ti viene considerato soltanto il punteggio più alto e il punteggio più alto, appunto, entra in classifica. Quindi hai tre partite, diciamo, per entrare in classifica. Poi dalla quarta in poi, se te la vuoi fare, te la fai così a spasso, perché magari è divertente. Infatti, tendenzialmente sono molto divertenti, hanno delle regole comunque simpatiche, quindi questa è una trovata molto bella, sia per una questione competitiva, perché può far piacere competere con il resto del mondo sulle varie schermaglie, sia sulla schermaglia singola che poi sull'intera stagione. Puoi in realtà anche competere solo con i tuoi amici, quindi tu eventualmente puoi, puoi appunto, ecco, cliccare con questa casella e ti compare la classifica solo in relazione ai tuoi amici. Quindi è bello anche fare una sfida interna con i propri cari e sfottersi un pochettino, quindi stare a dire, ah, sono più bravo io e così via. Che poi, insomma, è ciò che mantiene vivo il fuoco di questo gioco. Quindi la schermaglia è una cosa molto, molto, molto figa, una bellissima trovata. E questa è tutta la parte in solitario, quindi tutta la parte in cui tu interagisci con degli automi. A proposito, questo è il mio nickname, quindi nel caso vi possa interessare potrete aggiungermi e magari ci facciamo qualche partita in allie online. A proposito dell'online, eccolo qua. Partita online tu hai, vabbè, lobby ed eventi. Eventi, lì ti dice se ci sono dei tornei che stanno organizzando, in questo caso è in arrivo, quindi al momento non ce ne sono. Poi, nella lobby, vai nella lobby e vedi effettivamente se ci sono delle partite che stanno organizzando. Qui vedi, dice, elenco partite, nessuna partita. Che cosa vuol dire? Che siamo più specifici. Queste sono tutte le partite che attualmente sono in corso, però sono partite con password, sono partite di persone che si organizzano tra di loro e buonanotte. Partite senza password, ecco, al momento c'è questa qua, e quindi c'è questo ragazzo che vuole fare una partita in quattro persone, una persona già si è iscritta ed è lui, e le altre tre, quando si iscriveranno, inizia la partita. Ti dice che tipologia di partita è. Le partite possono essere di due tipi, a livello di tempistiche. Può essere live, i giocatori hanno 90 secondi per completare il turno, oppure può essere asincrona, cioè si hanno tre giorni per completare il turno. Quelle asincrone sono molto molto comode, perché effettivamente tu puoi iscriverti ad una partita e giocare fondamentalmente quando hai tempo. Poi ecco, magari ci vorrà una settimana per completare la partita, però intanto la partita te la riesci a fare. Partite attive sono le partite effettivamente in cui tu stai partecipando, questa è la mia nella fattispecie, che appunto ho una partita con i miei amici, il turno, ci sono tre giorni di tempo per rispondere alle mosse degli altri, quindi con tranquillità si può fare. Anche questo è molto interessante perché effettivamente non solo hai la possibilità di misurarti con le persone di tutto il mondo, ma non hai neanche la fretta di dover giocare subito, che hai 90 secondi, cioè tu puoi fare una partita per organizzare una partita in cui semplicemente giochi quando hai tempo, quando hai 5 minuti, prendi, rispondi alla mossa e vai avanti. Detto questo, vediamo magari una partita così contro gli A, facciamo, ecco così, crea partita così vediamo un po' un attimino come funziona. Allora, la modalità di scelta del leader ce ne sono due. Una è quella standard, praticamente ti vengono dati due leader e tu ne scegli uno. Il draft vengono tolti due leader, quindi degli otto leader che sono presenti ne vengono tolti due, e scegli un leader in base a come parti. Io adesso parto primo, quindi tutti gli altri hanno scelto il loro leader e io non scelgo uno. Posso già controllare le carte del mercato, per esempio, vabbè, io scelgo il banner, vabbè, ma giusto così per fare. Questa è l'interfaccia. L'interfaccia, devo dire, molto comoda, perché sulla destra ci sono le carte del mercato, eventualmente se le voglio guardare meglio, posso aprire qua e me le guardo. Questo 4 è la persuasione mia attuale. Ottimo. Tra l'altro mi dice pure quante spade ho, perché effettivamente ho un pugnale, e quindi mi dice che ho questo. Tra l'altro, ecco, basta passare il mouse su una carta e me le ingrandisce, perciò anche da questo punto di vista è molto comodo. Poi, io posso sapere quante carte mi sono rimaste nel mazzo, quante carte ho negli scarti, volendo vedo che carte ci sono nel mio mazzo, chiaramente non in ordine, è ovvio, quindi non mi devo stare a fare dei conteggi o a segnarmele da qualche parte. mi dice le carte che sono nella mia pila degli scarti, e il bello della diretta, uno starnuto in diretta, e le carte che ho eliminato. Qui mi dice, ecco appunto, le carte con il mazzo, le carte con in mano, le truppe nella guarnigione, quanti agenti è disponibile, le carte in trigo, le risorse. Questo lo dice per me, e per tutti i miei avversari. Quindi se io voglio fare anche dei conti, tra virgolette, ai miei avversari, perché voglio sapere che carte hanno giocato, che carte hanno negli scarti, che carte hanno eliminato, quante carte hanno in mano, quante carte hanno nel mazzo. Io da qui ho controllo su tutto. Good. Poi invece dall'interfaccia principale, si vedono le informazioni, quelle più importanti, ovvero quante carte in trigo ha il mio avversario, e quanti carte ha. Dopodiché, questi sono appunto i colori dei vari leader. Basta, quando vedete questa scia luminosa, significa che il turno vostro, quando è degli avversari, la scia sarà su sugli avversari. Queste sono le caselle. Cosa faccio per inviare un agente? Molto semplicemente, prendo la carta, tengo premuto, e trascino l'agente dove lo voglio mandare. Ok? E lo invio. Mettiamo caso, io vado qua, baso la mia casella, essendo una casella di conflitto, io posso schierare truppe, clicco, e ne schiero fino a due, ovviamente. Mettiamo cosa che ne voglio schierare uno. Conferma, do la conferma, dopodiché, finisce il mio turno. Basta, giocano gli altri, mi compare la grafica di quello che fanno gli altri, che fanno le loro mosse, si vede le truppe che mandano in conflitto. Ecco, a proposito, qui mi dice che round siamo, siamo al primo round di 10. Questo è il conflitto attuale, questi sono i miei avversari, le truppe che abbiamo in guarnigione, le truppe che abbiamo nel conflitto, e chiaramente la forza di combattimento accumulata. Quando è di nuovo il mio turno, visto che comunque lì A è molto veloce a giocare, tocca di nuovo a me, chiaramente queste caselle che sono occupate, mi mostra da chi è stata occupata la casella, e nulla. Io semplicemente scelgo, vado avanti, e vado avanti così. Mettiamo caso, poi io, ora adesso faccio magari una seconda mossa, voglio andare per dire qui, mettiamo caso, su cui rete naci, voglio schierare altre truppe, ne metto altre due, così, fine turno, dopodiché i miei avversari giocano, fanno le loro cose, voglio nuovo al suo, mi esce la carta che giocano, tra l'altro ecco qui, abbiamo il registro delle azioni, quindi io posso sempre avere controllo, ecco, e poter guardare tutte le azioni che sono state fatte, nella fattispecie, se voglio, posso anche essere specifico, premendo più, mi esce scritto soltanto quali carte sono state acquisite dai vari giocatori, quindi posso avere queste due modalità, molto molto buono. Vabbè, poi qua ci sono le impostazioni, le carte eliminate, sia a livello di carta impero, che a livello di carta intrigo, dopodiché io mi rivelo, mi rivelo, mi stabilisce la forza in combattimento, mi dice quanta persuasione ho, ne ho tre, scelgo di comprare una carta, mettiamo caso, voglio comprare l'iniziatra Bene Gesserit, la compro, vanno i miei scarti, finisce, fine turno, ok, finito. Si riveleranno anche gli altri, poi dopodiché si andrà in conflitto, e si risolve il conflitto, e si va avanti, era un successivo. Bene, questo è come funziona ad un E-digital. Per chi non fosse ancora convinto, perché magari dice, eh sì, però dai, è gioco base, io ormai sono abituato con le espansioni, bene, c'è una buona notizia anche per voi, a partire dalla seconda metà di luglio, verrà pubblicata la prima espansione, l'ascesa di X. A proposito, il gioco è in italiano, eh, il gioco è in italiano, quindi stiamo alla grande, verrà pubblicata l'ascesa di X, e ragazzi, con l'ascesa di X già ci siamo, cioè già abbiamo una versione del gioco, molto molto simile a quella, tra virgolette, finale, che comprende anche immortalità. Immortalità che arriverà o verso la fine di quest'anno, oppure l'anno prossimo, ma l'anno prossimo è sempre prima metà, quindi ci siamo. Però ecco, voglio mettere l'accento intanto sull'ascesa di X, l'ascesa di X ci dà la modalità epica, che si arriva a 12 punti, ci saranno nuovi leader, ci sono nuove caselle del tabellone, ci saranno nuove sfide. Ragazzi, io ho tutta l'impressione che quando uscirà poi l'ascesa di X, sarà un gioco ancora migliore rispetto a quello che abbiamo adesso. Però io vi chiedo, vi interessano contenuti di questo tipo? Perché eventualmente, chiaramente ne posso parlare sul canale. Se sì, ditemi che cosa vi interessa a livello di Dune Digital, così, magari ecco, posso portarlo sul canale. Specie poi con l'uscita dell'ascesa di X, non lo so, ditemi voi, c'è qualcosa che vi può far comodo, io, ecco, nei limiti del possibile, cercherò di accogliere le vostre richieste, perché l'obiettivo numero uno, la nostra priorità è sempre di far crescere la comunità italiana. E adesso che abbiamo a disposizione un'app, che, un'app ufficiale, che si arricchirà delle espansioni, praticamente la prima esce fra pochissimo, a proposito, l'espansione sarà disponibile per PC su Steam, a partire da metà luglio, per i dispositivi mobili, entro fine estate verrà resa disponibile. Una cosa che ho letto da più fonti, e che quindi vi posso garantire, non al 100%, ma quasi, è che, ma tanto poi si saprà questo, è che le espansioni, basta acquistarle una volta, e poi sono disponibili su tutti i dispositivi. Questo che cosa voglio dire? Che, se io compro Dune Digital, sul cellulare e sul computer, le espansioni, le posso comprare su una sola di queste piattaforme, perché tanto poi mi vengono sbloccate, anche su tutte le altre piattaforme. E questa è un'ottima cosa. Qui, state vedendo la versione da computer, vi posso dire che la versione da cellulare, va bene uguale, è molto comoda, quindi, insomma, a meno che non abbiate uno schermo del cellulare piccolissimo, è molto molto comoda. Tra l'altro, in questo momento, in cui sto registrando, ci sono i saldi estivi, quindi se voi andate su Steam, Dune e Imperium lo comprate a 18€, anziché 22€ su Steam. Sul cellulare, almeno per quanto reward Android, costa intorno ai 10€. Ok? iOS, forse 2€ in più. Comunque, per un gioco del genere, sono soldi ben spesi. Quindi, fate questo, e ribadisco, fatemi sapere che tipo di video vorreste vedere a tema Dune Digital, che ne so, partite in solitario contro l'Automa, partite in solitario contro la casa di Agal, partite online, sfide particolari che magari non riuscite a superare, volete vedere come si superano, schermaglie, quello che volete, fatemi sapere, io sono qui e cercherò di accontentarvi. Nel frattempo, vi saluto, grazie per l'attenzione, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Ciao!